Adesso che conosciamo meglio le forme, è il momento di capire come queste forme, interagendo con la luce, determinano il chiaroscuro, determinano l'ombra. È molto importante capire una cosa, e è una cosa che vedo spesso trascurata. Come illuminare correttamente il proprio soggetto per fare un ritratto, per fare comunque un'opera di fine art drawing. Ci sono alcune regole da seguire. La luce, per esempio, deve rigorosamente venire da una fonte unica. Non deve venire totalmente da davanti, perché questo annullerebbe tutte le ombre. Stessa cosa, avendo due luci diverse, creerebbe qualcosa di innaturale. Che in una fotografia è accettato, l'ambiente di chi osserva in una fotografia lo accetta. In un disegno, no. Noi nel disegno dobbiamo stare attentissimi a scolpire le forme in maniera più realistica possibile. E allora ci serve una luce unica, unidirezionale. Che non venga, ripeto, che venga da una direzione che ci crei delle ombre sul viso e ci crei del chiaroscuro. Praticamente l'opposto di molte fotografie contemporanee. Ora lo vedremo, conoscendo la struttura, capiremo come questa luce, interagendo con i vari piani, determina le ombre. Lo faremo con una luce che viene dall'alto, frontalmente. E vedremo che crea delle ombre molto caratteristiche, che sono spesso molto utili nei ritratti femminili, per esempio. Lo vediamo insieme. Ecco qui, usiamo questo accorgimento per farvi vedere la sovrapposizione dei vari piani. Qui, pensiamoci, da dove viene la luce? Abbiamo detto che viene dall'alto. Per cui le bozze frontali creano ombra. E si forma tipicamente qui sotto, sotto, una forma, un'ombra, che ha questo aspetto sotto la palpebra, per la rotondità dell'occhio, e sotto al sopracciglio proprio perché viene proiettata un'ombra. In genere qui, vista la forma delicata, soprattutto nel viso femminile, c'è una piccola area di luce smorzata. Un pochino... c'è una piccola losanghetta di luce, che spesso è molto carino rendere. A volte non c'è. Sotto il naso c'è una forma molto molto caratteristica. Ragionate, pensateci, dobbiamo sempre... io sono per disegnare consapevolmente. Si forma una forma di questo tipo, molto caratteristica, dovuta al naso che intercetta la luce. E anche sotto la bocca. La bocca sporge, lo sappiamo. Stessa cosa qui. Perché? L'abbiamo studiato. C'è lo zigomo che sporge, quindi intercetta della luce. C'è un cambiamento di piano e quindi qui sotto si forma un'ombra. Qui abbiamo un'ombra in genere, l'ombra portata dei capelli. Distinguiamo sempre l'ombra portata dall'ombra determinata invece dalla forma. L'ombra portata è quella determinata dai piani che intercettano e bloccano proprio la luce, mentre l'ombra che determina la forma è quella dovuta al girarsi delle forme, all'allontanarsi, all'inclinarsi dei piani rispetto alla direzione della luce. Adesso cominciamo. Abbiamo tracciato lo schema della luce e adesso scuriamo. E vedrete come effettivamente il vostro occhio lo riconosce abbastanza bene. Eccolo qui. Qui abbiamo questa luce. È una luce importante. Ripeto, è un tipo di illuminazione che sul ritratto va molto bene, perché tende a dare fascino. Non a caso nella cosmesi spesso si scurisce questa parte qui. Adesso non so i nomi di video. Smoky eyes, come si chiamano. Ci sono vari termini nella cosmetica. Ma spesso si dà un'ombra qui sotto, proprio per dare fascino, per dare profondità allo sguardo. Ecco qui. Questo tipo di illuminazione si chiama anche butterfly. Proprio perché, vedete, ci sono queste ombre che sembrano un pochino le ali di una farfalla. È un'illuminazione usata... Questi tipi di illuminazione sono spesso... Sono spesso chiamati lo stile Hollywood, perché sono... Se guardate i vecchi film hollywoodiani, ci sono molti tipi di illuminazioni di questo tipo, molto dirette, con delle ombre sul viso molto marcate, che è un po' il contrario di quello che fanno adesso. Le sopracciglia. E andiamo sotto. Quest'ombra sotto, ovviamente, è data dal fatto che l'occhio è una sfera. E quindi, protrudendo leggermente da sotto, forma una luce. Forma, scusatemi, un'ombra sotto. È più in ombra la parte inferiore. Qui cosa abbiamo? Eccolo qui. Lo saliamo. Qui abbiamo il piano laterale, che sale così e così. E quindi è in ombra. In genere è un'ombra meno marcata. Le ombre più forti sono quelle sotto le sopracciglia e sotto il naso. E anche sotto la bocca, in realtà, perché sono ombre portate. Questa invece è una cosiddetta form shadow. Eccolo qui. Il naso... Eccolo qui. Non c'è solo quell'ombra sotto, ma il piano inferiore del naso è in ombra. Quindi si forma un'ombra di questo tipo, che include l'ombra del piano inferiore con l'ombra portata, proiettata dal naso che intercetta la luce. A volte si forma un'unica ombra tutta scura, non si vede nulla, non si vedono le narici nulla. A volte leggermente... Il piano inferiore si vede leggermente meglio e qualche barlume di narici si vedono. A me spesso piace renderlo. Vedete, io non sto praticamente tracciando linee. Giusto qui qualcuna. Sto tracciando meno linee possibile, perché voglio farvi vedere una cosa che poi useremo e che poi capiremo meglio. Ecco qui. Qui spesso... Pensate a come è fatto il labbro. Il labbro superiore è inclinato in avanti, quindi è un piano che guarda in basso, ma è curvo, è rotondo. Quindi superiormente un pochino di luce la prende. Invece... E spesso, in questo tipo di illuminazione, specie quando è molto netta, molto marcata, proietta proprio un'ombra, eccola qui, sopra al labbro inferiore. Bisogna stare attenti, perché spesso è difficile a quel punto rendere il fatto che sia un'ombra, non piuttosto che sia un labrone, deforme, diciamo così. E poi qui il labbro inferiore e quest'ombra che è molto importante. Quest'ombra sotto che è determinata dal cilindro dei denti, dalla sezione di sfera che abbiamo tracciato, dal fatto che il labbro inferiore è sporca. Per cui non renderla ci dà un labbro inferiore molto debole. E qui abbiamo invece una form shadow molto più delicata sui lati del viso. Attenzione quando fate una donna, perché dobbiamo stare molto attenti a non farla sembrare una barba. Non sto scherzando. A volte, se io soprattutto la tratto in maniera molto... con dei tratti molto evidenti, sembra la barba. è qualcosa a cui prestare attenzione. Adesso un attimo sottolineiamo qui i capelli, diamogli un pochino una... una giustatina. Ma ripeto, voglio tracciare meno linee possibile, perché voglio... voglio farvi vedere una cosa. Non voglio anticiparvela. Ecco qui. Vedete? Si capisce? Già queste ombre qui rendono... rendono la tridimensionalità del viso. Adesso torniamo giusto il profilo, il contorno. Ecco qua. Eccoci qui. Collo. E l'ombra sotto. Quando è illuminato così dall'alto, il viso proietta un'ombra molto scura e molto marcata sul collo. Spesso il collo proprio non lo vedo. Posso vedere qualche barlume di sterno, credo, mastoidea o qualcosina, ma spesso è completamente in ombra. E questo mi aiuta perché fa risaltare il viso. Gli dà uno sfondo scuro da cui farlo uscire meglio. E adesso ecco qua. Guardate. Io ho tracciato meno linee possibile. Quello che voglio farvi vedere, su cui voglio ragionare insieme a voi, è che anche solo così, anche solo tracciando correttamente le ombre, il vostro cervello riconosce che è un viso. Ne riconosce la forma. Quella è un'ombra, ma che, guardate sotto il naso, quell'ombra lì è un naso. La vostra mente la completa. Dice, quello è un naso. Elaborare correttamente, sulla base di conoscenze precise, le forme delle ombre aiuta enormemente a determinare la forma e la tridimensionalità. è la riconoscibilità di quello che vedete. Adesso lo scoltiamo un pochino di più, lo precisiamo un pochino di più. C'è anche l'opportunità di non precisarla. Spesso lo vedete in alcuni artisti. Rendono solo l'ombra. Anche se voglio ottenere degli effetti particolari. Qui ovviamente stiamo imparando la tecnica fondamentale, la tecnica più utilizzata, la tecnica che va saputa. Poi posso giocarla, poi posso giocare, posso elaborare come voglio. Spesso, vedete, l'ombra del naso va sul labbro, invade il labbro. Dipende da quanto in alto ho la luce. Se ho una luce molto in alto, poco frontale, proprio sopra, 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 l'ombra tende a coprire completamente tutta la bocca. Almeno la parte centrale della bocca è tutta in ombra. Lì diventa un po'... toglie un pochino di grazia, di fascino. Meglio farla un pochino meno dall'alto. Qui sotto. Attenzione qui sotto a non fare delle borsone sotto gli occhi. Stiamo parlando di un volto femminile, quindi comunque devo sempre utilizzare una certa delicatezza. Ecco qui. Sottolineiamo un pochino. A volte gli occhi sono completamente in ombra. Ripeto, ci sono varie varianti di questo. Dipende dalla posizione precisa della luce. Spesso quest'ombra sotto le sopracciglia va a coprire proprio gli occhi. A volte vedete proprio che gli occhi non si vedono. E quello è molto bello. Se voglio rendere dei quadri molto drammatici, se voglio rendere delle scene di eventi storici magari molto... molto... sì, drammatici. Però la giusta è qui. Nel ritratto, la persona che ci commissiona un ritratto in genere vuole che i propri tratti si ridano. Qui c'è un'ombra molto... non è completamente... questa luce sottile non è completamente in piena luce. C'è questa piccola losanghetta, ma mi raccomando di smorzarla un pochino. Spesso la luce, l'ombra qui sotto, si fonde con le sopracciglia e le rende meno evidenti. Posso vedere qualche pelo del sopracciglio che sporge, ma spesso forma un'ombra unica. Qui lateralmente. vedete, io sto partendo dal nulla. Sto immaginando... Conoscendo i piani, io sto immaginando una luce, conoscendo il pattern delle ombre, sto immaginando la luce e sto tracciandomi le ombre in base a quello che sono dei piani. È semplicemente un ragionamento. La luce viene da lì. I piani hanno queste inclinazioni, le ombre devono essere queste. Qui lateralmente. Il naso ha una leggera ombra perché la luce è frontale, quindi i piani laterali del naso sono più inclinati rispetto alla direzione della luce, non sono a 90 gradi e quindi un pochino di ombra la prende. senza esagerare. Senza esagerare. Ecco qui. Sistemiamo un po' le... le iri... sopra ciglia. Ciglia, scusate, non sopra ciglia. Ecco qui. Qui stiamo attenti. In genere qui attorno alla bocca la facciamo leggermente sorridente, c'è una piccola ombra. Eccola qui. e poi andiamo qui. Leggomo. Vi ricordate quello che dicevo? Bisogna stare molto attenti nel ritratto frontale a rendere questi piani qua, perché altrimenti veramente non abbiamo altro per rendere la tridimensionalità. Nel ritratto frontale. Il ritratto frontale è più facile per quel che riguarda la somiglianza, ma per rendere la forma c'è molto il rischio che sia piatto. E sotto al collo. Eccolo qui. E riprende forma. E' un viso. Ci sono gli esibili. Vanno sfumati. Qui devo fare un lavoro molto... Mentre sotto le sopracciglia, sotto il naso ho delle ombrenette abbastanza dure che danno anche fascino. Qui devo andare molto delicato. E qui sto facendo una cosa. sto sfumando e scurendo leggermente i bordi. Questo è qualcosa è un piccolo artificio e le orecchie sono chiaramente in ombri. E' un piccolo artificio che mi permette di dare un'illusione maggiore di tridimensionalità. Anche quando non c'è. Noi non abbiamo delle linee attorno al nostro corpo. Ma dare questa piccola sfumatura fa risaltare di più la figura. E adesso sto facendo una cosa. Questo è opzionale, facoltativo. Spesso in queste illuminazioni la parte inferiore del mento quella che ruota e poi va va verso il piano inferiore è in ombra. E così è in ombra anche il collo. Se io ho un ritratto completamente frontale con il viso non inclinato spesso queste due parti tendono a fondersi insieme in un'unica ombra. Posso scegliere se rendere questa fusione o no a volte mi dà un'area più di mistero. La mente comunque sa io ho accennato all'inizio del mento quindi la mente dell'osservatore sa che lì c'è una forma e la comunque la intuisce. Ma spesso mi dà un'area mi dà un certo carattere fra virgolette di mistero. più io faccio uscire il viso dall'ombra come dire più il viso ha risalto e più il viso ha carattere poi dipende da quello che voglio rendere. Qui aggiungiamo un pochino qui c'è un'ombra importante questa sottile ombra qui come dire tra sulla radice del naso è abbastanza importante perché mi rende la curvatura che c'è alla radice del naso. Il naso non parte dritto spesso non parte dritto dalle sopracciglia ma ha una flessione interna e poi riparte. Quella piccola ombra mi rende merito di questa forma curvilinea ed è molto importante perché vedete è un'altra cosa che aggiunge un po' di spessore allo sguardo. andiamo sotto. Il naso possiamo renderlo sia con un'ombra completamente nera che fonde il piano inferiore con l'ombra portata oppure possiamo accennare far intravedere le narici questo è insomma dipende dal soggetto dipende da come vi gira un po'. Qui scuriamo lateralmente usiamo quel trucchettino che vi ho detto io lo uso tranne quando voglio invece far sparire i confini a volte può essere carino far proprio sparire una parte del viso giocare al vedo non vedo allora se è buio contro buio lo lascio sparire così se è luce contro luce non traccio proprio la linea di confine non traccio proprio la siluette per così eccolo qua questi questo questo e questo queste sono le ombre caratteristiche di questo tipo di illuminazione e sono determinate dalla forma se io so la forma le posso rendere adesso diamo giusto un pochino di scuriamo un pochino e diamo un pochino più di è uno sketch ovviamente di aria finita allora eccolo qua ricapitolando quali sono le ombre fondamentali eccolo qua sotto le sovracciglie sotto al naso sotto la bocca sotto al mento ombra laterale qui sul viso e adesso fate lo stesso naturalmente tocca a voi disegnate teste e poi ombreggiatele